Sì, grazie, grazie Marina per la linea. Siamo in diretta dalla Prefettura di Chieti in compagnia del Prefetto Armando Forgione e del Direttore Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti Thomas Schell. Sono qui in mezzo a loro. Io faccio subito una domanda al Prefetto Forgione perché il tavolo è stato molto, molto, direi acceso, come giusto che sia. Vogliamo fare una sintesi. Che cosa è emerso? Ma oggi avevamo 12 comuni che non sono i comuni diciamo in zona rossa, chiamiamola così, la zona rossa all'interno di questa diciamo zona arancione della Regione Abruzzo. Sono quei comuni cui indice è superiore a 1 per cui sono quelli che in linea di massima potrebbero diventare zona rossa se non si procede a un'attività di controllo. E questo va bene ed è stato indirizzato questo monito per il controllo alle forze dell'ordine, voi lo sapete, sono settimane che ci diciamo stiamo impegnando su questo fronte. Ma altresì oltre ai controlli è necessario procedere anche a una valutazione se operare un ulteriore screening di massa per vedere di far emergere quella parte di positivi asintomatici che sono tantissimi. Bene, 5 di questi comuni tra il prossimo weekend e il weekend successivo, cioè il 13 e 14 o il 20 o il 21 faranno gli screening di massa nei loro comuni e quindi ci aiuteranno a comprendere se quest'indice salirà o ci auguriamo invece molto più probabilmente potrà scendere. Questo è l'aspicio di tutti, quali sono i comuni? I comuni sono per il prossimo weekend saranno Castelfrentano e Guardiagrele, per il weekend successivo invece sono Casali Incontrada, Rocca Montepiano e Santa Maria Inbaro. Perfetto, grazie al prefetto. Passerei proprio a Thomas Schell per parlare di una tematica molto ma molto sensibile direi, caldissima, quella dei vaccini. Sì, chiaramente questo tavolo si è spostato anche come focus da quello della misura contro la pandemia con gli screening e i tamponi molecolari a quello delle vaccinazioni. Chiaramente lo leggiamo tutti, lo sappiamo tutti, i vaccini non sono sufficienti per immunizzare nell'immediato la popolazione. Per cui questo tavolo nelle ultime quattro sedute in verità ha sviluppato un suo metodo condiviso anche con il presidente della provincia, il sindaco Pupillo, con il sindaco del capoluogo di Chieti e tutti i sindaci che hanno partecipato, come oggi 12, che prima si vaccina nelle zone rosse. Cioè sono 9 comuni in questo momento, chiaramente il prossimo weekend ci potrebbero essere altri comuni che entrano o forse qualcuno anche che esce. E poi in seconda battuta i comuni che ha una prevalenza oltre l'1% della popolazione. Questo è un metodo scientifico perché chiaramente la pandemia, l'abbiamo visto in Israele, in Inghilterra, dove si vaccina, dove c'è un alto carico pandemico, diminuisce la pandemia e in questo senso salviamo vita e chiaramente, diciamo così, mantenendo una costanza di forniture, prevediamo un periodo non brevissimo per vaccinare nelle zone arancioni. Chiaramente ci auguriamo che il governo manda più vaccini nella regione Abruzzo e in questo senso questo sarà un intermezzo molto breve per poi vaccinare come previsto su tutti i comuni in modo uguale. Chiarissimi e saustivi sia il prefetto che il direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti che tra l'altro oggi è sprovvisto di farfalla, questa è una notizia. E questa è una riunione di lavoro per cui non mi aspettavo la televisione ma spero di essere presentabile nello stesso. Assolutamente. Vi faccio aggiungere solo un ringraziamento ai sindaci, i sindaci meritano il plauso di tutti noi perché si stanno impegnando in maniera fortissima. E' bene che lo dica perché a volte si dà per scontato questo, invece no, tutti i sindaci, sia pure attraverso un confronto anche serrato, come le ha detto, però stanno tutti remando nella stessa direzione e questo è importante. Grazie al prefetto Forgiore, grazie al direttore Thomas Schell, ringrazio anche per il supporto tecnico naturalmente Andrea Berardinelli. La linea può tornare a te Marina.